Ora invece la linea la cediamo ai colleghi di Bologna, della redazione di Detto Tra Noi Estate a Bologna, dove ci aspetta appunto Giada Guida. Amici di Detto Tra Noi, buongiorno e bentrovati dai nostri studi di Bologna. Allora quest'oggi noi vogliamo fare insieme a voi un bel tuffo nel passato, un bel tuffo nell'archeologia, in tutto quello che del passato ci circonda ancora oggi. Come lo vogliamo fare? Grazie anche ad un concorso che è proprio dedicato all'archeologia, l'archeologia secondo me, come voi da casa vedete appunto l'archeologia oggi. E allora lo facciamo grazie ad una graditissima ospite che ci racconterà naturalmente qualcosa, approfondirà naturalmente il concorso. Grazie per essere nei nostri studi a Maria Pia Guermandi, archeologa dell'Istituto dei Beni Culturali dell'Emilia Romagna. Buongiorno. Grazie e buongiorno a tutti. E allora dicevo l'archeologia secondo me è proprio il titolo di un concorso che vede coinvolti tutti i cittadini e come possono raccontare qual è la loro visione dell'archeologia? Sì, i cittadini specifico, non solo italiani ma dell'Europa perché si tratta di un concorso inserito in un progetto finanziato dalla Commissione Europea e che è anche un modo per cominciare a costruire finalmente quest'Europa sul serio, al di là delle monete, sulla cultura che ci sembra uno dei mezzi migliori. La finalità del concorso e del progetto è quella di capire che cosa i cittadini europei pensano del loro patrimonio archeologico che è ovviamente importantissimo e che rappresenta una realtà quotidiana per moltissimi di noi, in Italia in particolare. E come possono i cittadini esprimere appunto questa loro visione? Attraverso quali materiali? E fino a quando potranno farlo? Fino a quando è aperto questo concorso archeologia secondo me? Dunque, il concorso è stato da pochissimo prolungato, a grande richiesta, fino al 23 agosto, quindi c'è ancora tempo per presentare o un disegno o un dipinto, un video o una foto secondo le regole che sono precisate nel bando che trovate sul sito dell'istituto. Ce le dovete inviare in un primo momento semplicemente in forma digitale, quindi per email. Dopodiché ci sarà una selezione, si possono vincere dei premi come dei soggiorni in quelle che sono le due capitali archeologiche dell'Europa, cioè Roma ed Atene e i primi 60 lavori selezionati faranno parte di una mostra internazionale che girerà in tutti i paesi coinvolti nel progetto che poi sono gran parte dei paesi europei, oltre all'Italia, la Francia, la Germania, Olanda, Inghilterra, Grecia, Spagna, insomma. Quindi c'è la possibilità di diventare protagonista di un progetto molto ampio. E certo, perché è vero che il nostro passato sicuramente fa parte della nostra vita attuale e spesso capita di farne parte anche durante i cosiddetti lavori del cantiere Bobo, perché a Bologna, insomma, lo sappiamo, ci sono stati dei ritrovamenti. Quindi anche questi lavori potrebbero diventare parte del concorso, questi ritrovamenti all'interno dei lavori. Assolutamente sì, anzi, ci auguriamo che questo accada. Il concorso si propone di indagare che cosa i cittadini europei pensano dell'archeologia a tutto d'ottondo, quindi non solo nel bene, perché sappiamo che l'archeologia è spesso associata ad aspetti molto affascinanti, a siti meravigliosi, monumenti straordinari. Ma ahimè non è solo questo, a volte appunto sono i disagi rappresentati dagli scavi urbani. Tutte le volte che scaviamo sappiamo che in un territorio così stratificato come dal punto di vista storico, come quello italiano soprattutto, si trova qualcosa. Da lì possono, anzi, quasi sempre rinascono dei disagi, i cantieri Bobo rappresentano bene un esempio di quello che può succedere, e però tutto sommato, come ci siamo resi conto, ad esempio facendo delle interviste durante i cantieri, proprio finalizzate anche alla promozione del nostro progetto, tutto sommato i cittadini sono anche disposti a sopportare dei disagi non irrisori talora, in cambio di una comunicazione precisa di quello che sta avvenendo. Quello che ha dimostrato Bobo è stata anche una grandissima curiosità dei cittadini bolognesi nei confronti di quello che stava avvenendo fuori lungo l'ex decumano della città, via Rizzoli, via Ugobassi. Quando è emerso questo piccolo pezzetto della via Emilia, abbiamo visto affacciarsi alle grate dei cantieri moltissimi cittadini che riprendevano foto, facevano video, perché la storia che ci circonda, che è sotto i nostri piedi, comunque interessa moltissimo. E qual è il vostro intervento quando venite a conoscenza, quando vi informano di un ritrovamento così interessante, magari durante appunto un cantiere? Allora, noi come Istituto Beni Culturali affianchiamo nell'opera di comunicazione, possiamo affiancare nell'opera di comunicazione, di valorizzazione, la sovrintendenza archeologica, che è l'organo dello Stato deputato alla gestione del nostro patrimonio archeologico. Direi che è un compito molto importante perché, come abbiamo visto, c'è bisogno soprattutto di comunicare in maniera piana, non solo per addetti ai lavori, che cosa significano questi resti, che valore hanno e perché sarebbe necessario impiegare delle risorse pubbliche per mantenerli anche più di quelle che impieghiamo fino a questo momento, perché sappiamo che purtroppo non sono sufficienti. Non solo in Italia, è un problema che riguarda anche altri paesi europei. E appunto all'interno del progetto europeo NEARC sono stati coinvolti in qualche modo anche i politici. Ci può spiegare esattamente in che modo e che cosa è stato chiesto loro appunto in un sondaggio in cui appunto sono stati coinvolti per capire anche quelle che sono le loro percezioni e insomma le loro conoscenze? Certo, il sondaggio che in questo caso ha riguardato, cioè nel caso dei nostri rappresentanti politici Italia e Francia in una sorta di confronto fra cugini europei, era un'altra modalità di ascolto di quella che è la percezione del nostro patrimonio archeologico. I politici intervistati, un centinaio suddivisi fra parlamentari, quindi a livello nazionale e a livello locale, sono stati intervistati sulla loro conoscenza del fenomeno archeologico, sulle leggi che lo regolano, regolano sulle finalità dell'archeologia, cioè è stato chiesto ad esempio per loro a che cosa doveva servire il patrimonio archeologico soprattutto. Gli è stato chiesto se avessero mai partecipato a eventi o iniziative che riguardavano in qualche modo l'archeologia e lì la percentuale dei sì è stata molto bassa. In generale la conoscenza non è così approfondita da parte dei nostri politici e questo però ci fa ricollegare al problema di prima, cioè forse noi stessi, noi archeologi abbiamo saputo comunicare male. Soprattutto un dato che ci ha un po' inquietato è quello secondo il quale oltre la metà dei politici intervistati in Italia alla domanda se nel loro territorio, nel territorio di riferimento ci fosse un qualche patrimonio archeologico hanno risposto di no. Allora in Italia questo è veramente stravagante perché è quasi impossibile non trovare qualcosa attorno a noi, sotto di noi e quindi questo ci deve far riflettere su come l'operazione di informazione e di comunicazione debba partire dall'alto, dai nostri politici prima di tutto. E ci apre anche alcuni spunti di riflessione sull'importanza di una buona conservazione del patrimonio archeologico davvero ricco nel nostro paese ci apre anche ad alcune riflessioni quello che sta accadendo e che è accaduto in Medio Oriente quindi parlo della distruzione del patrimonio da parte dei miliziani integralisti dell'ISIS. Ecco, ci sono molti punti che ci devono far pensare. Sì, da un lato queste immagini di distruzione fatte apposta per essere trasmesse, ricordiamocelo, ad Atra, Nini, Venimrud, alla stessa Palmira non si sa bene adesso come sia la situazione, da un lato sottolineano come l'importanza di questo patrimonio sia evidente anche per chi poi lo distrugge perché evidentemente questa forma di propaganda mediatica è stata fatta su qualcosa che sapeva di colpire molto l'immaginario occidentale. Queste immagini sono state trasmesse a ripetizione, non dico che abbiano fatto altrettanto scandalo delle esecuzioni, ovviamente la vita umana è ben più preziosa, però hanno fatto molto riflettere. E dall'altro però queste distruzioni ci raccontano anche come noi occidentali abbiamo fallito nell'esportare proprio questo che è uno dei nostri più grandi valori e cioè quello della protezione del passato, della protezione del nostro patrimonio culturale. Evidentemente è un valore che non siamo riusciti a esportare e invece sarebbe proprio uno di quelli che caratterizzano al meglio il nostro sistema democratico. Anche su questo quindi bisogna intervenire in una maniera diversa, c'è anche da dire che in questi paesi del Medio Oriente molto spesso, soprattutto in campo archeologico, gli occidentali sono intervenuti in una maniera colonialista, cioè sono arrivati, hanno scavato, hanno portato via. I musei dell'Europa settentrionale soprattutto sono pieni di materiali sottratti ai siti del Medio Oriente. Qualche colpa ce l'abbiamo da farci perdonare. Per chiudere e tornare sul tema di cui abbiamo parlato all'inizio e quindi il concorso dell'archeologia, secondo me possiamo dare qualche ultimo riferimento ai nostri telespettatori fino al 23 agosto è possibile partecipare? Sì, trovate tutte le istituzioni sul sito dell'Istituto Beni Culturali, ma basta cercare archeologia secondo me su internet e trovate tutti i riferimenti, moltissimi materiali promozionali. partecipate e fate partecipare con molta libertà, cioè raccontandoci anche le esperienze non solo positive ma anche quelle negative, perché ahimè ci sono e abbiamo bisogno noi che lavoriamo in questo settore di capire dove possiamo migliorare. Allora grazie, grazie per essere stata nei nostri studi a Maria Pia Guermandi, archeologa dell'Istituto dei Beni Culturali dell'Emilia Romagna. Grazie. Grazie davvero a voi. E anche a voi che ci avete seguito da casa, se avete voglia di riflettere sul vostro passato, l'archeologia secondo me è una bella occasione per farlo. Ora una breve pausa e poi di nuovo detto tra noi.